E' stato fatto un nuovo video di Vice con capitalisti e anticapitalisti, loro i capitalisti li definiscono liberisti, molto meglio così devo dire, e il tema era l'ambiente, ambientalismo, ambiente, e in molti mi hanno chiesto come mai io non fossi stato invitato, beh io ero già stato in un altro video quindi va bene così, e oltretutto c'era un ragazzo molto bravo che si è ricavata probabilmente meglio di come me la si è ricavata io nella sua situazione, anche perché è l'ultima volta che sono stato da Vice, l'ultima e unica volta che sono stato da Vice, l'unica cosa eclatante che io sia riuscito a dire è stata questa. Non mi piace perché ha distrutto un partito che era libertario, l'ha fatto diventare un partito socialista, e ciò che non mi piace... Salvini è socialista? Assolutamente sì. Ha un pochino delle difficoltà a unire questo termine alla figura di Salvini, davvero mai sconvolto, scusate. Comunque anche se non c'ero posso permettermi di fare qualche commento perché c'è in realtà molto da dire, purtroppo in quei 20 minuti del video di Vice non si è potuto dire abbastanza e purtroppo non si scende mai bene nel profondo delle questioni, non si riesce sempre a guardare bene quali sono i dati, quali sono le motivazioni e soprattutto su due piedi magari non sempre si capisce qual è la critica che l'altra persona sta facendo, qual è la posizione che l'altra persona sta prendendo, bisogna rifletterci un secondo perché talvolta sono così insensate che ti chiedi ma lo sta dicendo per davvero? Comunque sia, iniziamo e partiamo dal mio primo commento che è a un minuto circa. Di solito si fa riferimento a conoscenze che non otteniamo noi per conto nostro, normalmente non c'è la presunzione di farsi portavoce di qualcosa che non sia già stato riconosciuto a livello globale dalla scienza. Il problema non è quello che dicono gli esperti ma la soluzione proposta. Gli esperti in genere si limitano a dire che cosa sta accadendo, non dicono dovremmo fare questa cosa, sono degli scienziati, non sono dei politici, non si mettono a dire che cosa bisogna fare. Beh sì, talvolta qualcuno lo fa e oltretutto i loro paper sono piuttosto complessi, si tratta di modelli molto complessi, complessi nel vero significato della parola e sono anche di difficile interpretazione, quindi chi non li capisce effettivamente può avere dei problemi nella comprensione di questi testi ma vi assicuro che non c'è scritto da nessuna parte che siccome c'è il riscaldamento globale o cambiamento climatico allora bisogna attuare subito una mega iper pianificazione e che calcolando perfettamente tutto quanto si arrivi a una soluzione. No, purtroppo o per fortuna non si è arrivati a questo stadio con la scienza e forse non si arriverà mai perché si tratta di cose veramente difficili da fare non si riesce a pianificare una cosa del genere e purtroppo la mia obiezione è che molti attivisti di Friday for Future non si rendono conto che la soluzione che loro propongono è esattamente il socialismo cioè la stessa soluzione che hanno portato avanti i politici negli ultimi 150 anni beh magari un centinaio perché non sempre i politici sono stati socialisti ma nell'ultimo centinaio di anni ce ne sono stati tantissimi hanno portato avanti questa soluzione abbiamo delle prove che non ha funzionato in Unione Sovietica abbiamo visto l'agodara completamente prosciugato il Venezuela che fa furie uscite continue di petrolio perché anche soltanto pochi mesi fa quest'estate c'è stata una fuoriuscita da una petroliera ed hanno cercato di coprire tutto quanto dando la colpa al Brasile ma poi i vari enti si sono resi conto che il Brasile non c'entrava nulla che era una petroliera venezuelana insomma il socialismo ha fatto danni ambientali e con la pianificazione non hanno risolto assolutamente niente la questione è che oggi l'ambientalismo si pone su un'altra prospettiva ma è quella proprio di un movimento che scoppia e che pone delle rivendicazioni e lotta per delle rivendicazioni a livello ambientale ma non solo quei giovani che fino ad adesso sono stati derubati del futuro, del presente e del passato invece si pongono in prima linea che per riappropriarsi delle condizioni di vita che siano un minimo degne e dignitose per l'essere umano sulla terra questo è un discorso che segue una logica marxista ossia di riappropriarsi di qualcosa che è stato rubato quindi sì, si tratta proprio di comunismo ma se parlare di ambiente deve essere un pretesto per promuovere di nuovo il comunismo allora io con queste persone preferirei proprio non parlarci perché l'ambiente è una questione troppo seria per lasciarla a chi è così estremamente ideologizzato e vuole ficcare la propria idea politica dentro alla soluzione secondo voi scioperare è utile? sì, lo è lo è perché in realtà quello che lo sciopero vuole fare è bloccare sostanzialmente l'attività produttiva e le attività produttive sono di carattere negativo per quello che è l'organismo terra scioperare secondo me è giusto ed è anche una cosa bella perché comunque è l'espressione diffusa di un'idea tuttavia se il motivo dello sciopero deve essere il blocco della produzione allora vuol dire che la soluzione che si sta proponendo è la decrescita felice? cioè la soluzione è tornare a quell'economia in cui le persone eravano i campi dalla mattina alla sera vivevano senza tecnologia, morivano di fame per colpa di una carestia o di un'epidemia? non mi sembra una bella soluzione ricordiamoci che la qualità della nostra vita è migliorata così tanto solamente grazie alla tecnologia e che dipende anche dalla nostra condizione economica non possiamo pensare di mantenere lo stesso livello di vita tornando indietro togliendo tecnologia, togliendo risorse ci sono cose che devono andare avanti, non tornare indietro per guarire il problema del cambiamento climatico dobbiamo andare avanti, tornare indietro prima o poi ci riporterà allo stesso stadio che stiamo vivendo oggi e dunque non è una soluzione plausibile inoltre è assurdo e qui rientra nella logica collettivista che lui voglia imporre la sua idea a tutti gli altri cioè la sua visione personale quindi quella della decrescita felice a tutte le altre persone che magari non la pensano come lui io da consumatore posso fare delle scelte che obbligano il produttore a farne determinate altre se tutti i consumatori non prendono più bottigliette di plastica nessun produttore produrrebbe bottigliette di plastica quindi io credo che il capitalismo funzioni come metodo se tutti siamo consumatori, consumatori coscienti, cittadini coscienti e informati questo ragazzo dà una risposta veramente misesiana come Ludwig von Mises è il consumatore che è sovrano nel mercato se noi vogliamo davvero cambiare qualcosa dobbiamo indurre i consumatori a fare scelte diverse in modo tale che possano essere sostenibili in modo tale che i produttori cambino la loro produzione per seguire ciò che i consumatori richiedono e i produttori saranno costretti ad adattarsi altrimenti falliranno quindi dire che è inutile far cambiare idee ai consumatori è sbagliato sono i consumatori ad avere il potere non i produttori ecco, i cento multinazionali producono il 70% delle emissioni di CO2 quindi io posso bloccare la produzione di tutto il mondo tranne quelle cento multinazionali e comunque ci saranno il 70% delle emissioni di CO2 questo ragazzo purtroppo non ha compreso bene che bloccare la produzione significa far morire milioni di persone di fame non è una cosa da poco bisogna pensare a tutte le ricadute delle idee che si desidera applicare e bloccare la produzione fa esattamente questo io spero che lui non ne sia consapevole io credo che il capitalismo verde come soluzione sia un po' illusoria se ci fosse anche oggi la transizione energetica completa per decarbonizzare tutte le società avremmo comunque problemi di erosione del suolo consumo di suolo i pannelli solari e le paleoli che per esempio creano una nuova dipendenza mineraria dai metalli rari è comunque un modello di sviluppo che non ha limiti, non prevede limiti falso è falso proprio perché qui c'è una carenza nella conoscenza di ciò che è l'economia perché l'economia nasce per studiare la scarsità il capitalismo tiene in piena considerazione la scarsità e anzi esiste proprio perché esiste la scarsità le cose sono scarse dunque esistono i prezzi e dunque bisogna trovare il modo migliore per allocare le risorse il modo migliore per allocare le risorse lasciare la libertà agli individui insomma questi sono discorsi che si affrontano anche nel primo esame di microeconomia sono cose basilari cioè i prodotti anche se sono scarsi finiti non vuol dire che si continuerà a venderli normalmente cioè il prezzo è correlato alla scarsità più un bene scarso e più il prezzo aumenta un domani quando il petrolio diminuirà mettiamo che il petrolio possa finire nei prossimi non so 30 anni a poco a poco il prezzo del petrolio aumenterà sempre di più perché diventerà sempre più scarso diventerà sempre più difficile ottenerlo ma soprattutto se la domanda rimane alta alta proprio in quest'altro senso l'offerta si abbassa il prezzo si alza e sono le conseguenze ovvie del mercato quindi non si può dire che il petrolio un giorno finirà per colpa del capitalismo anzi tutt'altro il petrolio non finirà grazie al capitalismo semmai diventerà troppo caro e le persone inizieranno ad utilizzare qualcos'altro magari energie rinnovabili che a quel punto saranno diventate molto più convenienti io volevo dire che in questo momento una persona ogni 9 soffre la fame più di 2 miliardi e mezzo di persone non hanno l'acqua sì è vero che una persona su 9 o quello che soffre la fame è vero che ci sono persone che vivono in povertà assoluta ma dobbiamo anche renderci conto che tutto ciò sta diminuendo la povertà sta diminuendo la fame sta diminuendo nel mondo la carenza di acqua sta diminuendo grazie al capitalismo grazie alla globalizzazione chiamiamolo come meglio è il processo di globalizzazione sta permettendo ai paesi meno sviluppati che prima non avevano mai incontrato il capitalismo di arricchirsi questi paesi riescono ad arricchirsi e le popolazioni riescono a migliorare il loro stile di vita quindi secondo te non ci deve essere un senso di responsabilità o di colpa da parte del lato del mondo che ha potuto svilupparsi no il lato del mondo che si è sviluppato non ha una colpa anzi anzi ha un merito al merito di essersi arricchito al merito di aver creato ricchezza tutto grazie alla divisione del lavoro e al libero mercato grazie a questi fattori sono riuscite a creare una quantità di ricchezza incredibile con la quale hanno migliorato la vita di milioni di persone senza senza impoverire nessuno neanche una persona ma perché semplicemente il mercato funziona così entrambe le persone ci guadagnano negli scambi ne ho parlato anche in altri video magari vi lascio il link qui sotto nella didascalia del video e boh principi di economia di base due persone si scambiano i prodotti fra di loro perché ritengono che l'altro sia migliore se non sono prodotti e denaro ma insomma uno pensa che quello scambio sia conveniente altrimenti non lo farebbe entrambi alla fine si trovano relativamente più ricchi e si è generata ricchezza grazie al libero mercato e alla divisione del lavoro non si è sottratta a qualcuno non bisogna provare un senso di colpa tutt'altro tutt'altro bisogna semmai diffondere il liberalismo il libero mercato il capitalismo la globalizzazione come vi pare chiamatelo come vi pare per davvero ma bisogna diffondere tutto ciò nei paesi in cui oggi non sono ancora arrivati bisogna fare in modo che questi paesi si aprano al mercato e riescano a svilupparsi e ad arricchirsi soltanto così questi paesi riusciranno a prosperare e sono poveri proprio perché fino ad oggi di libero mercato nel loro paese ce n'è stato veramente poco dunque provvediamo magari in questa maniera piuttosto che pensare che gli abbiamo sottratto qualcosa perché loro erano poveri una volta sono rimasti poveri anche oggi e purtroppo e questo lo confermano davvero praticamente tutti gli economisti sono poveri perché non hanno mai sviluppato il mercato è qualcosa in cui credi tipo un dogma tipo una fede o hai dei dati cioè riesci ad argomentare quello che stai dicendo perché tu dici io non credo che sia così dunque sì noi abbiamo i dati mentre a supporto della teoria secondo cui i ricchi sfruttano i poveri non c'è nemmeno un dato e non c'è nemmeno una dimostrazione non c'è una prova non c'è assolutamente niente quindi forse prima di parlare di dati bisognerebbe vedere effettivamente che cosa dicono di fatti la risposta che arriva da questo ragazzo molto competente è questa un dato certamente è che il numero di persone che versava in condizioni di proprietà assoluta vent'anni fa era il doppio cosa è successo in questi vent'anni? la globalizzazione dei mercati non certamente politiche regressive se il colonialismo fino a ieri si faceva con le armi e insendiandosi e mettendo dei governi fantoccio oggi si fa semplicemente con lo spostamento di capitali con l'acquisizione di parte del mercato di alcuni paesi che si basa proprio su una logica sbagliata che è quella del profitto quello che dice questo ragazzo è presunto neocolonialismo che in realtà non è così loro si riferiscono loro parlo di loro perché generalmente chiuso a questo termine è una determinata categoria di persone si parla di neocolonialismo riferendosi alle multinazionali che delocalizzano in paesi poveri e loro dicono che c'è un sfruttamento in realtà queste multinazionali portano lavoro portano ricchezza portano benessere migliorano le condizioni di vita delle popolazioni locali è vero che c'è collusione fra determinate aziende e determinati governi il punto è che molto spesso è colpa delle istituzioni inefficienti non tanto delle aziende e poi generalmente le grandi aziende vengono controllate anche a livello internazionale è molto difficile che effettivamente ci sia una cosa del genere cioè e poi non si può rubare le risorse cioè ci sono le proprietà private le risorse appartengono a chi le possiede facciamo un esempio Beyoncé è stata accusata di sfruttamento quando ha aperto un'azienda in Sri Lanka è stata accusata di sfruttamento perché pagava i suoi dipendenti di 47 centesimi di dollaro all'ora che sono circa 6 dollari e 20 al giorno è stata accusata di sfruttamento è uno stipendio molto basso ce ne rendiamo conto tutti ma lo stipendio giornaliero medio minimo in Sri Lanka è di 2 dollari e mezzo questo vuol dire che lei sta pagando più del doppio dello stipendio minimo dello Sri Lanka cioè mi sembra qualcosa di dignitoso per i nostri parametri e molto poco per i loro è qualcosa di giusto quindi non c'è sfruttamento in tutto ciò soltanto perché siamo abituati a paradigmi parametri diversi non significa che quello che Beyoncé sta facendo lì sia sfruttamento solo perché qui lo considereremmo tale bisognerà arrivare a un modello di società che forse ancora non conosciamo in cui si produce meno si consuma di meno si spreca di meno si ricicla molto di più possibilmente si lavora di meno questo ragazzo sta chiedendo qualcosa di impossibile ossia come pensi di ridurre la fame nel mondo diminuendo la produzione? dovresti come minimo proporre il contrario per diminuire la fame del mondo devi aumentare la produzione piuttosto aumenti la produzione in quei luoghi in modo tale che queste persone abbiano più ricchezza e come si può fare questo con gli investimenti esteri quindi aumentando, ampliando il mercato ecco questa è una soluzione però insomma come si può pensare di far vivere in maniera dignitosa le persone se le persone devono lavorare di meno anche in occidente insomma ci sono tante persone che arrivano con difficoltà alla fine del mese lo vediamo anche in Italia lavorare alla metà vuol dire guadagnare la metà non si può mantenere lo stesso potere di acquisto cioè vuol dire che il potere di acquisto viene dimezzato il sistema capitalista è un sistema che non ha considerato le leggi universali della fisica? no, forse sono di parte perché ho studiato fisica ma assicuro che il capitalismo e la fisica sono due mondi diversi non c'entrano niente l'uno con l'altro e non ha senso proprio questo paragone davvero il capitalismo tiene conto delle leggi della fisica così come una persona normale che cammina per strada tiene conto delle leggi della fisica quello che ha detto lui si chiama collettivismo cioè posso prendere l'idea di ognuno come nel sistema capitalismo si mette nelle mani di uno che è lo Stato, il capo di Stato che regola tutti, che mette tutti sullo stesso livello che tutti lavorano al stesso orario tutti prendono la stessa paga la versione dici tu è la versione totalitaristica ma non è l'unica scelta possibile bisognerà trovare una versione democratica a questa roba qui e lui sostiene che quello alla fine non era vero socialismo non era andata bene bisogna riprovare un'altra volta peccato che il socialismo sia fallito sempre tutte le volte ad ogni singolo tentativo l'abbiamo visto in Cina, in Russia, in Cambogia in Venezuela, Cuba abbiamo tantissimi esempi di socialismo fallito riprovare un'altra volta significa semplicemente ridurre nuovamente in schiavitù milioni di persone schiavi di un governo totalitario non si può pensare al socialismo senza totalitarismo è una deriva ovvia non è un qualcosa che puoi limitare in qualche maniera è una diretta conseguenza socialismo significa esattamente il controllo dello Stato se si intende nel socialismo statalista ma tanto quasi nessun socialista desidera l'abolizione dello Stato loro desiderano molto spesso i programmi socialisti moderni che ci sia il controllo totale statale su tutte le proprietà e che quindi la proprietà privata sia molto limitata e che tutto quanto sia in mano ad una specie di super burocrazia statale insomma fare tutto ciò significa davvero far morire di fame le persone ridurre le loro libertà negare la libera espressione di ciascuno cioè puoi avere tutte le più buone intenzioni del mondo questo lo concedo uno può sognare tutto quanto ma se la strada che percorri è diretta verso l'inferno non ti puoi aspettare che se tu la percorri tante volte poi all'improvviso lì dove c'era l'inferno sbuchi il paradiso no, al capolinea ci sarà sempre l'inferno può essere forse un ragionamento in tutti i visti ma vi assicuro che percorrendo sempre la stessa strada il capolinea è il medesimo secondo me è un po' miope la ritorica del tutti insieme possiamo fare la differenza perché responsabilizza l'individuo e de-responsabilizza chi sono davvero gli attori principali in gioco cioè le società e le grandi aziende che poi possono così anche sbattere le palle responsabilizza l'individuo e de-responsabilizza la società cioè in che senso? la società è un ente astratto non può essere responsabilizzata la società è composta da tutti gli individui che ne fanno parte non può avere una responsabilità è un essere astratto non ha doveri, non ha diritti è un po' come se non esistesse cioè è l'insieme di tutti gli individui se ne può parlare così in questa maniera ma non agisce ma si è capito cioè ciò a cui si vuole arrivare è sempre lo stesso punto cioè si vuole prendere una soluzione e imporla a tutti quanti gli altri cioè l'imposizione di un singolo punto di vista questo alla fine è sempre ciò in cui sfocia il collettivismo metodologico ma così non si salverà l'ambiente non funzionerà nulla la pianificazione è stata dimostrata come inutile malfunzionante non può, non funziona e con questo concludo i miei commenti il video dura tanto questo video è durato tanto mi dispiace se l'ho fatto durare troppo spero di essere stato interessante di aver fatto dei bei commenti e se avete altre domande sull'ambiente ponetemele pure nei commenti io presto farò un video a riguardo del punto di vista capitalista neoliberista sull'ambiente vorrei anche parlare del nucleare che purtroppo in Italia è un tabù è stato un tabù per tanti anni viene visto come qualcosa di assurdo un mostro malefico però insomma necessita di essere ancora discusso dibattuto io sono a favore ma magari ne parleremo un po' più avanti vedremo che cosa c'entra il nucleare con il liberalismo e il capitalismo e vedremo tutto ciò che riguarda l'ambiente e il capitalismo insieme dunque fatemi le domande nella didascalia sotto la didascalia perdonatemi nei fra i commenti e ciao alla prossima